Siamo qui con il nuovo sindaco di Carcare Cristian De Vecchi, un commento a caldo? Il primo commento a caldo, io ringrazio la squadra, siamo stati una squadra veramente unita, una squadra veramente affidabile, sono stati tutti bravissimi, li ringrazio perché il primo ringraziamento va loro, il secondo ringraziamento va alla squadra con cui ci siamo affiatati oramai da dieci anni e il ringraziamento più grande è al dono che hanno fatto i cittadini a noi e a loro stessi, dandoci la fiducia noi restituiremo loro questa importantissima fiducia. Una dedica per questa vittoria? Beh, senza dubbio la dedica alla vittoria va a tutti i miei compagni di strada, ai miei genitori, alla mia famiglia e soprattutto a mia moglie. Il primo passo da nuovo sindaco? Primo passo da nuovo sindaco? Non lo so, domani ci pensiamo.